buonasera amici e benvenuti in un nuovo video sono qui per la partita di monza salernitana sfida che ha visto il monza vincere contro la capolista salernitana per 3 a 0 grazie alle reti di super mario ballotelli di nino barilla e di marco armellino grande partita del monza che ha sin da subito messo in difficoltà la salernitana del presidente lotito con anessa polemica che la salernitana era arrivata a monza con l'era della lazio ma non ci interessa ma interessa il 3 a 0 dei bagai sulla salernitana primo gol di super mario ballotelli con carlos augusto che se ne va sulla sinistra mette il pallone in mezzo portiere a vuoto e ballotelli insacca il tapin per l'1 a 0 dopo quattro minuti alla prima da titolare a sorpresa super mario ballotelli porta il vantaggio in monza secondo gol il secondo gol invece porta la firma di nino barilla l'ex centrocampista del parma che con un tiro su assist di frattesi batte il portiere della salernitana per il 2 a 0 il 3 a 0 arrivato al 94esimo porta la firma di marco armellino con un tiro in area deviato da un giocatore della salernitana che ha messo in difficoltà il portiere grandissima partita nel monza che batte la capolista salernitana grande prova sia dei singoli che della squadra con moto a carlos augusto che hanno fatto davvero bene anche vari la frattesi anche super mario ballotelli davvero una grande partita giocata da tutti una partita che ha visto il dominio del monza sulla capolista salernitana e niente adesso bisogna pensare subito alla sfida del 4 gennaio di lecce lecce monza e niente bisogna giocare così giocare come abbiamo fatto oggi con la salernitana i risultati arrivano grande prova davvero i risultati se si gioca così cominciano ad arrivare poi ballotelli giocato davvero una grande partita in città dei compagni davano mano ha giocato veramente bene poi quando è stato sostituito nel secondo tempo ha abbracciato anche potenti sono molto amici e si sono abbracciati e ballotelli sembra avere la testa giusta si gioca come ha fatto oggi veramente un acquisto azzeccato speriamo mantenga questa questa mentalità super mario ottima prova nel complesso di tutti e niente abbiamo battuto la capolista e ora tutti devono avere paura del monza perché se si gioca così veramente non ci ferma nessuno e niente io vi invito a lasciare un mi piace a questo video a commentare a scrivermi qui sotto i commenti della partita monza salernitana su ballotelli sulla prova dei ragazzi sulla prova dei bagagli e niente iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al canale attivate la campanellina delle notifiche e sempre forza monza dai bagagli 3 a 0 alla capolista 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0